ciao fiorelline fiorelline l'ultimo uovo della serie di questo anno questo è il mio uovo e dopo la cicla ve lo faccio vedere e vediamo qualcosa troverò dentro lo darò a rachere sicuramente via ecco adesso vi faccio vedere questo qua allora io un peluche all'interno dei latte uova l'uovo di pasqua senza glutine che ci dovrò trovare un peluche all'interno di questa di questo uovo ok possiamo iniziare a aprire questo uovo vediamo cosa ci troviamo ok vediamo questo è come quello di guerrino che ci sta il filo meglio ok abbiamo apriamo però si apre meglio del tuo il tuo era più in metallo vediamo invece quello di rachere avevo trovato c'era lo scotch ok apriamo uovo vediamo vediamo questo uovo com'è a me si sente qualche cosa allora il bicchiere come quello di guerrino è come quello di guerrino il bicchiere è come quello di guerrino il bicchiere è più piccolino no è meglio quello di rachere si il mio è liscio è normale no è spaccato preciso si è spaccato preciso vediamo beh lo sapevo non lo so se te lo regalo guardate è carino no 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 penso proprio che non lo adoro che non mi piace troppo carino ma che è però non lo attacchi da nessuna parte ah no che è lo stretto che è ma il coso come si chiama carino oh guardate quanto è carino non lo so se io lo darò che è però non santo metterlo appunto ti vuoi dare non è un po' tagliato non è niente carino oh mamma mia a me mi piacciono i pupazzi poi mamma mi ha sentito molto 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 aro guarda aro quanto è carino aro gli piacciono i pupazzi eh aro guarda quanto è carino aro guarda quanto è tutto così aro si che bello ma è carino c'ha i piedini e i manini aro guarda quanto è carino pure morbido poi eh la cota non ho ancora visto la cota e comunque se si può attaccare così penso non lo so il telefono suona sempre quando è carino mamma mia ecco ditemi se vi piace questo questo qua che me lo rubrà a Rackere sicuramente vero Rackere bello però la lavatrice non si può lavare da zero più anni ah può giugarci non si passerà si può lavare e questo qua non so che questo c'ha pure il cosa qua comunque dentro il cota mio si può trovare qualsiasi pupazzetto va? bello carino si può trovare qua quello lì il mio si può trovare tutti questi non ci sta qui ah eccolo io ho trovato questo però potrei trovare questo 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 uno di questi tre io ho trovato questo qua questo qua ecco ah va bene oddio adesso vi posso lasciare e sacchiamo il mio uovo prima ma è duro però come uovo si mmm 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 buono eh va bene io adesso vi posso lasciare ciao a presto 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 Grazie per la visione!